Ce l'avete fatta, siete finalmente arrivati, com'è andata? Andata benissimo, Sardegna Olbia remato sul pattino E sarà difficile, sarà dura? Facile Hai avuto paura nei momenti di buio della notte, nel mare? Si stava bene E' stato faticoso remare? E' stata fatica a remare sul pattino Siete contenti ora che siete arrivati qua? Sì, che siamo arrivati qua a Santa Marinella da Lazio Hai visto quanta gente c'era da aspettarvi? Ho visto quanta gente c'era da aspettarci Sei contento dei saluti di tutti? Che salutiamo tutti va bene Ah Tiziano, siete tornati, finalmente tanta gente che vi aspettava Com'è andata? Sei contento? Bene, bene E' stato dura? E' stato difficile remare? Siamo dura, mo Andiamo a remare fino a qua La giornata era dura Non ce l'avevo fatta, arriva fino a qua Il mare, hai avuto paura col mare di notte? No, paura no Noi stavamo a dormire però, non c'era paura Ma non sentivo manco niente Quindi senza nessun problema, un viaggio molto tranquillo Un viaggio tranquillo Hai visto quanta gente c'era da aspettarvi? Ho visto, ho visto Avete fatto un'impresa? Ho fatto un'impresa, sì Finalmente siete arrivati, tanta soddisfazione sia da parte dei ragazzi Che da parte della gente che vi è venuta ad aspettare Grande emozione oggi qua a Santa Marinella Era un'emozione aspettata perché sono quasi due anni che ci lavoriamo per questa attraversata E noi ci rispettavamo un po' di persone Perché giustamente anche i ragazzi si sono fatti C'è stato un lavoro dietro molto laborioso e tutto quanto E l'attraversata è stata veramente stupenda Sono un po' emozionato, come vedi Che anche un po' stanco Perché dopo 29 ore di navigazione Mangiare un po' te È stata dura? Ci sono stati momenti di difficoltà durante il percorso? No, sinceramente durante il percorso è andato liscio tutto quanto Anche durante la notte dove era il momento in cui avevamo un po' di paura Nel senso di fare i cambi dei pattini e tutto quanto Invece è riuscito tutto bene Come se è stato fatto da sempre Una battuta sui ragazzi Come si sono comportati durante il viaggio? I ragazzi sono stupendi Noi l'abbiamo fatto tutto per loro E loro sono la stella che cercavamo Mi viene un po' di emozione Veramente Che veramente sono dei ragazzi stupendi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti